Eccoci qua, Arcade Studio Podcast con Luca Pischedda. Luca è un DOP ed è il fondatore di Rec District che oltre a un service che affitta un'attrezzatura fotografica cinematografica più che altro cinematografica, è anche un strumento di divulgazione per persone che sono interessate al mondo del DOP, allora intervisti altri DOP, intervisti persone che producono materiale video e cinema ed è super bello il tuo canale perché io sto imparando un botto di roba, cioè cose che non impari se non sei in una stanza con questi personaggi. Sono proprio persone difficili da stanare innanzitutto, un po' come quelle che intervistate voi perché sono immerse nel loro lavoro ed è difficile già acchiapparle, cioè già tirarle fuori da lì, cioè sono persone che ci metti anche un anno, un anno e mezzo prima di incrociare la loro disponibilità. Certo, sì anche perché non è spesso che vengono su Milano direi, i DOP di alto livello saranno più su Roma, no? Anche lì dipende, sì la base principale è Roma, però solitamente li prendi per i capelli quando finiscono il set, quindi a volte sono a Napoli e ti dicono guarda Luca sono a Napoli, se vieni stasera dopo cena mi trovi? Ah vabbè ok, quindi prendo il treno, scendo a Napoli, faccio l'intervista DO e poi torno a casa. Ma fantastico, allora c'è proprio, te ci metti molto di più di noi, effettivamente. Esatto, dai ragazzi vediamo qua, mangiamo due tassi, facciamo una chiacchierata. C'è un treno di mezzo, troppo per noi, forse sul treno si poteva fare un'intervista. Però questo pre-party, no? Che è una mossa registica strategica che fanno, me lo diceva Massimo Proietti che è un tecnico camera e ottiche stimato e rispettato in tutta Italia e in tutta Europa, è uno che ha lavorato tipo con Dickens, con Scorsese, un pezzo da 90, diceva che in Francia c'è l'abitudine, nelle produzioni cinematografiche, di fare il party sia ovviamente a fine progetto, ma anche all'inizio. Cioè si parte con un party in modo tale che tutti si conoscono, cioè si parte che ci sono già delle relazioni accese. Sì, ma è bello, c'è la possibilità di iniziare una conversazione su, cioè mangiando qualcosa, cioè rompi un po' il ghiaccio, poi arrivi effettivamente sul set o quello che è e sei già un po' riscaldato, aiuta molto secondo me. I francesi la sanno a lunga. Nel party. Facciamo anche a metà per vedere come siamo cambiati in questo percorso. No, ma infatti, cioè quello, lo abbiamo detto anche altre volte, le persone con cui ho sempre lavorato io, con cui sono diventato più, diciamo, intimo a livello di lavoro, proprio a conoscere personalmente, ci siamo briacati insieme. E capisci esattamente la personalità vera che esce fuori e poi capisci dove non andare e dove poi... Esatto, mi aiuta anche quello. Sì, sì. Quello è pazzesco. Tu riesci ad entrare in delle situazioni molto nerdistiche, cioè tu entri proprio nel dettaglio dei materiali con cui tratti. Quanto sei nerd e quanto lo fai perché sei un professionista? Eh, in realtà sono, cioè, ci cado nel senso che su certi argomenti sono curioso e quindi non ci penso che sto andando in profondità. Poi quando mi sveglio o quando mi svegliano mi dicono Luca, ma di cosa stiamo parlando? No, allora mi accorgo che forse sto entrando un po' troppo nel dettaglio. Però sono cose apprezzate. Ma sì, no, assolutamente. Perché qualcuno deve saperle quelle cose. Io tendo ad essere un po' più superficiale, conosco benissimo le tre cose che sono fondamentali per il mio lavoro e poi io spero che c'è qualcun altro che mi dice senti, hai provato a usare questa luce in questo modo perché potrebbe essere interessante, no? Cioè potresti fare quello che stai già facendo però in un altro modo che potrebbe essere, non so, più conveniente per il tempo, più alta di qualità o qualsiasi cosa, no? Allora avere qualcuno, soprattutto il service, che ti può dire senti, ho visto quello che stai prendendo, l'hai preso già tre o quattro volte, secondo me se fai questo, questo, quest'altro ti riesce meglio, cioè è fondamentale questa cosa qui. Da un lato come proprietario del negozio ho il dovere di conoscere l'attrezzatura per consigliare le cose più giuste, non tanto per, a più parti, anche mia madre, ma per farti fare il lavoro nel miglior modo possibile, spendendo anche il meno possibile perché così tu sei contento e poi torni. Però semplicemente comunque mi guadagno dei punti fiducia. Sì esatto. Il goodwill. Ah, goodwill. Goodwill. te li conquisti piano, 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 piano e alla fine sono quelli che pagano perché sono quelli che fanno parlare bene di te e sono quelli che così nella lunga distanza ti posizionano meglio. Assolutamente. Poi tu crei anche eventi dove dimostri il materiale, dove crei anche comunità che, cioè, tu te ne parlano ma non è sempre facilissimo da creare, no? Questa cosa qui, soprattutto tra dei squali che sono fotografi, di OP che sono tutti in competizione uno con l'altro, no? Sì, è tosta. È tosta un po' perché la tecnologia ha portato questo mestiere sempre a più persone e quindi in quello che prima era un recinto fatto di pochi eletti che dovevano per forza seguire un percorso preciso e già deciso, ok? Perché andavi a toccare attrezzature che costavano migliaia, milioni e milioni di lire. Adesso non è più così. Cioè tu arrivi a mettere mano su dell'attrezzatura anche se non hai fatto questo percorso, anche se arrivi dalla strada. E quindi i problemi si sono, cioè si sono moltiplicate le personalità che sono entrate in questo mondo e si sono anche moltiplicate le situazioni di guai. Sì, certo. Perché arrivando dalla strada, dalla strada tu ci arrivi, ma fai tutti gli errori del tuo percorso. E quindi la gente... E fai gli errori più costosi di solito. La gente impara sulle proprie cicatrici. E quindi così. È un modo nuovo di imparare un mestiere. Sì, sì. E poi il concetto di divulgare informazioni utili a gratis, così, proprio alla buona, è quello di creare subito un'altra roba che non facciamo noi, tra l'altro. Dovremmo cominciare. Però quello crea subito comunità. perché mi sono reso conto che quasi tutti i profili Instagram che seguo di più, dove imparo qualcosa, quasi tutti danno qualcosa da gratis. Tipo Chris Doe. Sì, sì, sì. Rack District, comunque c'è un altro. Sì, non è che devi pagare un corso e poi ti raccontiamo. Cioè tu vai nel dettaglio, anche se guarda le tue stories, no? Hai preso, così erano le ottiche Cook. Sì. Cioè sei andato in fabbrica, hai guardato le cose e l'hai messo online, hai fatto tutta la story ed era come essere lì, prima di tutto, che era fighissimo e poi era, cioè effettivamente, cioè so tutto quello che devo sapere su quelle robe lì. Non le utilizzerò perché non è... Mai dire mai. Noi abbiamo un'idea di fare un cortometraggio prima o poi. Se mi piace vi aiuterò a realizzarlo. Dopo ti giro il script. La sceneggiatura. Lui è tuo. Sta scrivendo. C'è una persona che non legge ma scrive. È pazzesco. Io voglio creare le storie, non voglio leggerle. Le vuole guardare al massimo. Tanti espressionisti, mica hanno fatto la scuola, capito, mica hanno fatto l'accademia. Prendevano, dipingevano, andavano a fare la loro strada e comunque ci sono... Ci ritroviamo oggi per le mani cose innovative fatte senza aver fatto il percorso vasto. Sì, se non sai cosa c'è, sei più libero in teoria. Esatto, perché poi forse fai un percorso diverso da quello che hanno fatto gli altri. Però io sono un... Io credo tanto nella formazione classica. Nel senso se fai pop art o se fai la linea a chi era che aveva fatto... Miró. Miró? Vedi, l'ignoranza. Ma Miró sapeva disegnare benissimo proprio una mano o una faccia. A livello tecnica era bravissimo e poi si è trasformato in quella roba lì. Quindi io credo tanto in quello, però certe volte escono delle cose da uno che non sa fare niente, che non ha una base. Non ha visto niente. Ti vende una cosa totalmente nuova e dici, ah, cazzo, ok. Non posso dirti niente. Quindi, vabbè, io faccio un po' la cazzo. Quindi vado... Io vado, ci provo. Ci sono troppi giocattoli. Vabbè, anche Du Champ è partito come pittore e poi è arrivato a fare tutt'altro. Assolutamente. Quindi... Beh, anche tu sei partito da una formazione artistica. Hai fatto Brera, hai studiato scultura. Io ho fatto Brera, ho studiato scultura. sono stato un anno a Dresda dove è cresciuto il mio pittore preferito. Più che altro per vedere... Cioè, per capire i suoi quadri, per capire le sue opere, a me interessava vedere i suoi colori. No? Per... Così, per capire più a fondo ed è costato caro perché mi sono dovuto imparare un po' il tedesco. Poi Dresda non è proprio la città più felice di un paese già molto felice. È forse uno dei posti più pesanti. C'erano le fabbriche di bombe lì, no? C'erano tutte le fabbriche della guerra, della macchina di guerra tedesca allora è stata praticamente resa il suono. Però tu pensa che io sono partito con il pergiudizio adesso vado a Dresda, zio cane, non troverò né amici, non troverò... Cioè, sarà tutto in salita. Io il primo... Proprio dal primo giorno ho trovato casa, amici e lavoro nel primo giorno. Pazzesco. Cioè... Perché sei la prima persona che si è trasferita a Dresda dal 64. Esatto. Stavano girando un piccolo show chiamato Truman Show. Erano chiestatissimi. Dicevano questo qua dall'Italia. Vì, che incredibile. Eppure è pazzesco. Cioè, mi sono ritrovato accolto e sono stato molto fortunato con quello sicuramente. Tornando un attimo al discorso dei contenuti che dicevi tu contenuti gratuiti di valore è una cosa che ho imparato nella mia vita precedente. Cioè, prima di arrivare a aprire il negozio facevo il videomaker. Ok? E come videomaker che arriva dalla strada che non ha studiato un cazzo ho fatto il mio percorso ho fatto di errori e ho accompagnato il percorso artistico di uno psicologo Luca Mazzucchelli e quindi il patto era ok, tu hai bisogno di video a posto. Io ho già bisogno di fare i miei errori ok, quindi ti faccio i video. E nel suo percorso quello che mi ha insegnato dopo dopo anni è che generare contenuti di valore per la tua community è la cosa più preziosa che puoi fare. Cioè certo costa ok, perché tu non vendi niente e generi contenuti di valore. Però tipo lui fa un esempio molto chiaro per spiegare questo concetto e dice durante i suoi eventi fa questa domanda secondo voi a Roma chi è che ha il conto in banca più gonfio in assoluto? Così? Dopo il Papa? Dopo il Papa. Università? No, non lo so. No, non ho idea. Un po' politici? Non ho idea. Madre Teresa. Ah, ok, chi è secondo me? Madre Teresa è quella che ha il conto più importante e se tu non ci penseresti mai e lei ha passato la vita però c'è un libro fantastico di un nostro scrittore Christopher Hitchens ah sì non so se lo conosci Hitchens Hitchens è l'attio numero uno adesso non c'è più purtroppo però era un personaggio abbastanza che faceva controversia ed era uno scrittore per Vanity Fair lui aveva scritto un libro che si chiama non mi ricordo se era Hell's Angel o qualcosa del genere parlava di madre Teresa che cioè il suo conto è così gonfio perché effettivamente cioè a lei importava di più se una persona moriva cristiano che una persona viveva nel peccato tendeva a spendere almeno per questo quello che scrive nel libro tendeva a spendere il meno dispensabile per tenerti per farti fare una bella morte invece di dire va bene adesso tutte queste donazioni le robe costruiamo non so scuole no invece costruiva cose posti ospedali più che altro come si chiamano quindi ospedali minimali a finire la vita ah le hospice allora c'è risparmiava abbastanza e poi aveva delle donazioni fantastiche di tipo il dittatore della Haiti e roba del genere che lo portava in giro allora lei sì effettivamente non mi sorprende che i primi posti come conto in banca non sapeva che dovevamo dire un nome se no l'avrei detto subito non mi ricordo come cazzo si chiama quel libro comunque Christopher Hitchens madre Teresa andate a vedere su youtube trovate subito cioè è una bomba però filosoficamente mi piaceva l'idea però sì effettivamente esatto funziona il problema è che la mia community è fatta di 500 persone 1000 persone non di più perché quelli realmente interessati a conoscere questi contenuti questi approfondimenti che sono pochi e sono vincolato anche dalla lingua italiana quindi sono hai capito però le interviste che fai con il DOP per qualsiasi persona che si sta approcciando al cinema sono fondamentali cioè perché non ci sono cioè se tu vai a fare cioè è uno dei motivi per cui abbiamo iniziato anche noi questo bordello qua cioè tu non trovi portello dovevamo chiamarlo così perché effettivamente è difficilissimo trovare informazione vera di professionisti online cioè ci sono tanti corsi se vuoi pagarli ci sono i masterclass che sono bellissimi cioè li trovi però se vedi le interviste anche quelli dei grandi DOP che fanno non so quei programmi di come si chiama non Vanity Fair l'altro programma che fanno i roundtables Actor's Studio comunque ci sono queste durante i Golden Globes e durante l'Academy Awards mettono insieme tutti gli attori principali intorno a un tavolo li fanno parlare tutti i registi attorno a un tavolo li fanno parlare e trovi anche i DOP forse però in quel momento lì sì è una discussione molto interessante però c'è anche un po' vediamo se riesco per fare la battuta prima che lo fa lui diventa simpaticissimo ma l'informazione è poca mentre se tu parli con una persona per un'ora anche non volendo un piccolo diamantino ti scende stavo ascoltando adesso quello che hai fatto con Carnera 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 che è un genio i primi 15 minuti sei già lì che dici ah ok io non capisco nulla è un altro livello sta parlando della morbidezza delle ottiche no lì veramente spiazzata lì lì sono morto perché cioè quello che a me fa impazzire cioè mi manda completamente in tilt il cervello è che io ho una convinzione che mi sembra un'ovvietà poi il professionista te la prende te la ribalta e all'improvviso dici è così lo vedi in un altro modo assolutamente Carnera ha fatto così con le ottiche cioè ottiche che sono particolarmente taglienti incise lui dice sì ok farle lavorare da uno bravo esatto con il fuoco e poi vediamo se sono ancora così taglienti sì sì le fai tutte aperte le ottiche hanno un punto di massima fuoco di solito di massima incidezza no che di solito è non so due stop al sotto della massima apertura più o meno siamo lì allora se una ottica va a 22 se hai a 11 sei massima incidezza chi non non è particolarmente schillato o pigro con la luce le neutral density e robe del genere tende a girare sempre più o meno in quella fascia lì perché è anche la fascia non è solo safe ma è anche la fascia in cui tu hai l'illuminazione dell'esposizione giusta al sole cioè stai lì sei un cinquantesimo a 11 più o meno cioè un po' luce aperta va bene ombra aperta è pericoloso avere una fascia così stretta di messa a fuoco è un po' come per un surfista stare su un'onda capito alta a 10 metri devi essere bravo devi avere proprio qualcuno con una sensibilità devi sapere dove metterti perché poi non c'è niente di peggio di vedere il fuoco che entra e va mamma mia c'è proprio quella roba che fa amatoriale subito di quello che ah cavolo devo mettere il fuoco un po' più indietro però non so in che direzione girare il follow focus allora lo tiro indietro ah no cazzo sono andato troppo torno indietro eh sì ma anch'io anch'io lo so infatti ti fanno uscire dalla magia in un secondo e lì basta è finita sì più è il minimo la profondità di campo più devi essere skillato però più è bella l'immagine e in quel punto dove è a fuoco però è incisissimo ed è quello il bello di queste ottiche ma anche le ottiche Zeiss per la Canon quelle proprio marce poco costose cioè con le manuali io ne ho un paio e nel momento che sono a fuoco è bellissimo però metterle a fuoco è un bordello devi proprio essere lì super attento con tutti tutto perfetto e poi c'è anche il problema di essere fin troppo nitido no? certe volte quindi è per quello che intendevi morbidezza della lente perché certe volte mi immagino che c'è un ci sono dei DOP che vogliono avere una una cosa un po' più morbida quindi anche il focus puller deve essere leggermente indietro leggermente davanti secondo me la cosa che è a fuoco deve essere a fuoco poi come diventa sfocato è importante il famoso bocchè dei 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 flicker nerd cioè quella roba cioè ha anche una parola via di se stessa esatto cioè sapere che la tua lama di fuoco è lì quella cosa lì è a fuoco ma poi il resto diventa un po' cremoso un po' bello cioè quello è figo no? però dove è fuoco deve essere a fuoco guarda sono argomenti estremamente complessi sembra cioè a volte mi sembra di sentir parlare i quelli che inventano i profumi sì è esatto che cioè si appoggiano su degli elementi cioè talmente sottili raffinati che dici ma di cosa sta parlando quando senti alcuni di più parlare di queste cose così tecniche pensi ma caspita ma veramente c'è tutta questa profondità questa ricerca quella è l'altra domanda quanto è vero e quanto è fumo in specchi perché c'è anche quell'elemento lì che forse a un certo punto diventa parte del lessico allora tu lo usi a prescindere che vuoi nascondere la tua arte o no però secondo me c'è anche una buona fetta di se tu lo mantieni una roba mistica il tuo lavoro è salvaguardato in un certo senso nel momento che diventa eh sì ma veramente vai tranquillo cioè hai tolto tutta la difficoltà cioè nel momento che una percentuale delle persone non riescono a capire o almeno tradurre nel loro cervello cosa tu intendi eh cioè quella fetta lì non arriverà mai ai tuoi livelli no allora ti salvaguardi un attimino tra tecnici ehm probabilmente in parte è anche un po' così nel senso che eh c'è quello che ti parla in tecnichese perché vuole che tu capito stia stia a bada esatto vuole tenere la sua posizione poi invece sono quelli che parlano in modo molto più sereno però li rispetti perché magari hanno vinto premi o comunque hanno un percorso artistico riconosciuto molto importante però parlano molto terra terra quindi sono approcci diversi però effettivamente quello che ha in mano il dupi è proprio un modo di comunicare molto sofisticato e difficile nel senso che quando sei tipo a fare zapping in televisione no e passi da un posto al sole a mission impossible cazzo cioè hai un passaggio tremendo cioè tu in un istante senti il brivido di mission impossible e la pacatezza di un posto al sole sono sempre brividi sono sempre brividi pazzi che arrivano di vergogna ed è io ho fatto questa domanda qua quasi a tutti e alla fine è la somma di tutte queste sottigliezze capito è la luce se la metti in un modo è la messa a fuoco se la metti in un modo se l'attore si è preparato in un modo se la scenografia se è tutto capito se tutta l'orchestra ha strumenti giusti e tutti sono bravi a suonare poi hai quella cosa che dici caspita è cinema sì esatto no è però è l'insieme di tutte queste piccole che non serve per fare cioè un grande un grande prodotto necessariamente però serve per fare grande cinema nel senso che Hateful Eight Tarantino cioè solo la sua scelta di camera di formato pellicola di riprese di tutto quanto cioè ha trasformato un film che cioè obiettivamente ha tre scenari cioè c'è la carrozza che arriva c'è l'esterno della baracca poi c'è l'interno della baracca è teatro è teatro però stai lì incollato perché l'arte della cinematografia è all'apice invece oggi stavo guardando un documentario su Fawlty Towers non so se lo conosci il Monty Python li conosci no? John Cleese quello alto che fa i camminate buffe no? sì lui nel 75 si stacca dai Monty Python per un momento e gira il primo episodio di Fawlty Towers dove lui fa questo personaggio di un proprietario di un albergo si chiama Basil Fawlty tipo il manager no? no è il proprietario e che è una merda cioè lui la sua filosofia è che il suo albergo sarebbe perfetto solo che ci sono questi fastidiosi clienti che vengono tutti i giorni che gli chiedono cose e che che disturbano l'efficienza del suo albergo e allora tutti gli sketch sono queste cose qua girato come potrebbe essere girato il posto al sole ok? però scritto da un genio della comicità allora cioè è lì secondo me se tu puoi salvare una scrittura pessima con una grandissima fotografia cioè ti avvolge le cose ma non puoi salvare una pessima cioè devi avere però lì ogni ogni look appartiene a una cioè tipo Fawlty Towers segue proprio quel filone di sitcom inglesi degli anni 70 perché costavano cioè loro li giravano 3 euro sì però il bello è diventato un'estetica perché loro li mettevano in onda e noi li amiamo però se li avessero girati bene cioè lì veramente ci sono delle scene dove lui chiude una finestra si muove tutto il muro perché non avevano soldi per fare la scenografia no? e quello non deveva essere così cioè l'idea era di fare un albergo che funzionava e tutto quanto andava sì ma secondo me dà un po' cioè dà quel carattere in più a quell'epoca sì c'è il carattere di personaggio di quella roba lì anche tipo si guardi Un posto al sole poi guardi The Lady c'è un posto al sole ha un senso perché è soap opera ormai il look and feel è quello The Lady è videomaking fuori foto The Lady la conosci? no ma devi assolutamente guardarlo The Lady è assolutamente letteratura esatto è Lloyd del Santo che giusto sì 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 Signore del Santo scritto e diretto scritto e diretto girato probabilmente girato ed è tipo sono due serie mi sembra è una serie online la trovi su YouTube scritto cioè di notte in cinque minuti praticamente una signora che fa delle cose che viene aiutata da alcune persone c'è l'amante c'è lo scagnozzo ma tremendo è talmente tremendo che è diventato ovviamente cult è anche Sharknado ah figa Sharknado ragazzi alziamo un bicchiere Sharknado bellissimo è Sharknado 2 è Sharknado 3 è Sharknado vs Octopus Metal Octopus cioè sono dei cult pazzeschi sì cioè tu ti aspetti capito quel linguaggio e vai là perché lo vuoi capito un po' realizza quella parte più trash che abbiamo tutti ah tremors però vedi tremors non ha il look di Sharknado cioè comunque è serio sì 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 no perché cercavano di essere seri sì volevano essere seri ma anche Sharknado non pensi che volevano essere seri però è invece il mix che ma Sharknado figurati ci sono tutte le battute che proprio i riferimenti anche gli attori no che sì ragazzi sono dei cazzo di geni ma invece il mix che a me piace tantissimo tipo Dal tramonto all'alba che mischia proprio riprese cinematografiche con DOP con i controcazzi e il trash anche il planet terror sì sì tutta la roba lì il grindhouse eh guarda sono il regista di cui parlavo prima una delle poche cose che mi ha spiegato bene intanto l'aneddoto più importante di tutta la mia vita che voglio condividere con voi è che la differenza tra poetico e patetico è un soffio questa guarda dopo due anni di cazziate questa è proprio la perla che vi sono portato a casa quella è tanta roba però questo sarà il quote che mettiamo nell'instagram post assolutamente però fondamentalmente in ogni opera audiovisiva ogni segmento è un petalo ok le opere più riuscite sono quelle dove tutti i petali sono grandi uguali ok perché lavorano tutti insieme però capita che ci sono dei prodotti che hanno dei petali più importanti e che li sgami subito a volte più importante la storia e tutto il resto è fatto ad minchiam e lì vai a premiare la storia esatto ovvio che se tutto è perfetto secondo me l'opera viene alzata se tu hai una grandissima scrittura con che funziona può anche essere un po' traballante però è traballante per una scelta non traballante perché è traballante no? secondo me poi perché poi diventa cioè una cosa così cioè Fawlty Tower stornando lì un secondo era talmente tutto controllato i personaggi erano controllatissimi il tipo di set era controllatissimo cioè cosa ci mettevano dentro le cose le relazioni erano super controllate e lui avrebbe voluto anche controllare la qualità delle riprese la qualità dell'audience che li entrava dentro però quelle cose lì erano non riusciva a farlo né nella serie né nella nella cinematografia esatto quindi fa proprio secondo me quello è il figo perché lui aveva questa idea di questo hotel fighissimo però lui non sa di cosa stiamo parlando voleva l'hotel Marcio ma voleva Marcio come lo diceva lui non Marcio perché tu non mi puoi mettere una vita in più ma io ovviamente andrò a vedere tutto questa roba qui è spettacolare perché poi finito quello va a girare Life of Brian ok con i multi python di nuovo allora c'è poi praticamente tutte queste cose si incastrano per fare il grande o il massimo opus dei dei multi python che è Life of Brian secondo me comunque sul discorso budget e qualità vi devo parlare del film che ho coprodotto e girato con il regista con cui collaboro Ciro Sorrentino che è questo il film si chiama Time Perspectives e l'ha scritto pensato Ciro scritto pensato diretto montato effetti ok ha fatto tutto lui ha messo lui il budget iniziale perché l'idea era quella di vediamo se siamo capaci di fare cinema lui a vedere se riusciva a scrivere e dirigere montare un film io se riuscivo a fornire tecnica e fare la fotografia di un longometraggio che è molto diverso da un cortometraggio nei corti purtroppo non saltano fuori i problemi che saltano fuori nei lunghi beh no ovvio perché i problemi di continuità tempo che cambia sole pioggia attori che impazziscono che lui giri cosa sei mesi vabbè lì abbiamo già due settimane che comunque è comunque lungo è comunque sì sì sono 87 minuti è comunque da considerarsi un lungo e quello che ce l'avevamo girato con una truppa di quattro persone di cui tipo il fonico era un chitarrista cioè non aveva mai fatto ripresa audio diretta con il boom quindi alla fine del film cioè l'ho visto proiettato durante il Trieste Science Fiction Festival quindi fantascienza sì sì un film di fantascienza cioè è un film di fantascienza perché viaggi nel tempo quindi è fantascienza a tutti gli effetti si torna indietro di un'ora e dieci però sono viaggi nel tempo anche se di un'ora e dieci quindi è fantascienza cioè quando guardi un prodotto del genere ti accorgi di quali sono i petali capito più lunghi e più corti e lì realizzi che per un film dove tutti i petali sono lunghi ti serve proprio cash sì c'è c'è proprio un cazzo cioè tu puoi avere entusiasmo tecnico tutto quello che vuoi ma secondo me è l'ultimo film girato senza soldi è Clerks cioè senza soldi però comunque girato 30.000 euro li è costato il Blair Witch Project però stavo per dire quello anche il Blair Witch Project perché loro hanno avuto cioè un prodotto di cioè il budget di produzione era basso però il budget di marketing era altissimo sì comunque ti serve cash perché quello l'ha fatto diventare però non l'ha messo lui i soldi per il marketing Kevin Smith no non sto parlando di Clerks sto parlando di Blair Witch Project lui ha messo soldi Kevin Smith ha messo soldi in più per farlo da 30 lui ha girato in 16 e l'ha portato a 35 esatto quando ha vinto Sundance ha dovuto portarlo a 35 quindi quello ha sborsato però secondo me quell'epoca lì di film indie anni 90 c'erano diversi film così eh però cioè lì cioè lì è una scelta molto intelligente comunque stiamo parlando di 30.000 euro sì cioè nel senso non è che sono pochi non stiamo parlando di milioni di euro però comunque sono 30 euro c'è una macchina però cioè nello stile con cui è stato ripreso è giustificato no se tu provi a utilizzare un registro più canonico cioè l'occhio del pubblico ormai è tarato capito su Marvel su Zio Cane quindi appena c'è qualcosa che non è in quei binari no Sharknado chip sì subito e o il chip è proprio la tua cifra stilistica e allora dopo ti fa ridere no diventa quasi cult ma se tu provi a tenere una linea no comunque di professionalità e poi ci sono delle scivolate allora lì soffri di più sì ma su quello è una cosa su cui abbiamo toccato molte volte per me cioè il mio stile fotografico è nato dal fatto che non avevo soldi cioè la luce in camera tutto un po' lo fai è nato per il fatto che non potevo affittare otto torce ogni volta che volevo fare un test allora cosa fai emuli il fotografo che costa meno allora una luce oppure roba in esterno a Milano stranamente negli ultimi 3-4 anni la luce in esterna a Milano è migliorata moltissimo ma quando sono arrivato io non so se è perché il cambiamento climatico che cazzo ne so anche i palazzi effettivamente ma no ma a parte i palazzi perché a me piace riflettono luce diverse no ma non è quello è proprio la qualità di cioè hai più giorni di cielo blu semplicemente d'estate sono le scie chimiche sono le scie chimiche spero di più scie chimiche a me piacciono di brutto da quel punto lì e sì nessuno mi ha mai detto già vabbè ma non entriamo non entriamo in quella forse più tardi verso l'ora e mezza e e niente allora cioè non puoi scattare in esterni tutto l'anno perché effettivamente in Milano fa freddo cioè non hai sempre il sole cioè devi avere il backup da interno allora cosa fai scatti in uno stile che ti va bene oppure scatti molto poco risparmi e quelle tre volte che scatti fai fai cinema no e secondo me questo cioè questo approccio per una persona che non ha soldi infatti kevin smith rodriguez cioè il motivo che hanno girato in messico e non l'hanno girato a hollywood no cioè ma secondo me cioè kevin smith sì assolutamente sì ma anche rodriguez rodriguez secondo me fa parte del suo di lui lui è messicano avrà tutti i suoi amici in messico esatto è proprio quello cioè non è che non credo che è un problema di budget lui piace portare la roba lì secondo me ma secondo me tutti e due cioè gli piace quella roba lì ed è anche il costo effetto non sono d'accordo puoi anche non essere d'accordo ma io potrei essere d'accordo con te ma avrei torto questa me la devo giocare questa è una roba di c'è un inglese pensavo di fratelli maggiori no 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 era un tipo che faceva commento politico inglese degli anni 60 che adesso a me non mi viene in mente il nome però è una specie di non imparare da lui rimani una chiusura così cioè ti spiazza io non l'avevo neanche capito ti fa ridere e poi hai capito basta il king potrebbe essere potrebbe anche essere una roba comunque una roba del genere forse sì però non era lui adesso mi viene in mente il nome comunque da Blair Witch Project quello che io mi ricordo bene perché ho letto su wikipedia è che cioè loro hanno speso quattro soldi porca cioè loro sono arrivati in tutto il pianeta terra chissà quanti soldi che hanno fatto solo con quell'idea ora una persona normale no dice ok ho fatto cassa e mo mo fammi fare qualcosa che mi permette di esprimermi no cioè dei grandi hanno detto mo il secondo amma 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 risparmia ancora di più e hanno fatto paranormal activity loro l'hanno fatto eh sì è costato ancora meno e telecamera di sorveglianza cioè geni geni capito io questa roba qua adesso dove sono mi mando da fuori mi fai le caraibi poi hanno fatto così tanta casa ok ragazzi ma non c'è più senso di fare cinema non c'è più seguito che cosa quello è stato il primo film che aveva un sito dedicato per il marketing infatti cioè che tutti pensavano che fosse 98 99 mi sa eh però capito cioè dopo che hai trovato quella soluzione lì cioè dopo cioè dopo dovrai dare un minimo di spettacolo sì certo cioè quella lì è la trovata ok dopo la trovata o te ne inventi un'altra altrimenti arrivi a cioè arrivi a toccare il fondo sì 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 esatto poi lì devi cioè neanche la trovate semplicemente adesso hai fatto i soldi cioè hai fatto un minimo di capitale puoi cominciare a investire di più nelle tue cose e allora ci sta stavo guardando la prima scena di Joker che mi avevi mandato te su YouTube sì cioè che il regista racconta la prima scena dove c'è lui con il cartello non so l'hai visto sempre Veneti Fermi sa quella no no bellissimo lo so mamma mia da vedere comunque parlavano di tecnica di fotografica per arrivare ad alcuni effetti che hanno usato sì un po' di CGI per ricreare le strade e sì hanno fatto cioè la strade piena di macchine d'epoca perché è una macchina cioè di New York di Gotham allora dove non resta tanto quello sicuramente costava però la stessa immagine poteva essere girata anche oggi e veniva era bellissima comunque perché la tecnica fotografica era fighissima no cioè allora una volta che tu hai hai capito il tuo personaggio hai capito che non so il quarto personaggio che è la città deve essere protagonista devi saperlo come girare quella città per dirigere anche la città esatto devi stare lì guardare gli orari pire con il sole sul paesaggio in modo giusto poi la giri con una bella telecina guarda una cosa che mi sono ritrovato a vivere e a provare per la prima volta mentre si girava il film è a guardare nel mirino quello che l'attore genera e a sentire wow funziona sì 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 no in quel caso è un attore inglese Sam Gittins o Gittins non so come come si dice di preciso però lui è uno che lavora nelle serie di Netflix con dei ruoli minori ha accettato il ruolo di protagonista perché è il ruolo di protagonista cioè per un attore fare il protagonista di un lungometraggio è wow cioè mi permette di mettere in mostra tutto quello che ho imparato tutto quello che so fare e quando quando c'era lui in scena cioè qualsiasi cosa facesse funzionava e lì cioè mi venivano i brividi solamente perché lui funzionava in camera vabbè sì quello che cambia non è semplice poi che è tutto il contrario quando invece c'erano degli attori più deboli che altro che brividi sì no no ti dà fastidio entusiasmo ti tolgono la storia ma infatti cioè io questo forse è un tema che potrebbe essere interessante lo stato del cinema italiano adesso cioè è un cinema che ha creato un genere no il neorealismo italiano cioè ne parlano ancora tutti quanti anche i b-movie hanno dato vita ad a un sacco di cose importanti Tarantino eccetera sono figli di quella roba lì però adesso mi sembra che più di film sulla mafia non riusciamo a creare no anche quando fanno una una roba scusa cioè ti dico è un argomento molto difficile spinoso in parte è una questione economica allora ho fatto due chiacchiere l'altro giorno con un regista che da un anno e mezzo si è trasferito in Cina e dice ad esempio in Cina io mi sto imparando il cinese perché sto cercando in Cina delle collaborazioni dei progetti perché lì c'è tanta c'è bisogno ok di generare contenuti però quello che succede è che lui va alle case di produzione grosse no presenta il suo progetto facendo vedere che ne so immagini o riferimenti e questi cinesi non capiscono cioè non hanno la capacità creativa di immaginare delle cose ok quindi quando si tratta di aprire il portafoglio e tirare fuori 2, 3, 4 milioni di euro 10 milioni di euro loro lo aprono il portafoglio solo ed esclusivamente per rifare dei cult americheni tipo what we might want però con gli attori cinesi tutti i cinesi capito però va bene lo fai cioè nel senso per me che sono un po' puttana ok io dico io ti faccio quante ne vuoi 10 di questi film di Mike Roby mi paghi 10 milioni di euro per farli e io poi incasso quei soldi lì e poi giro la mia storia ok secondo me in Italia al contrario di Stati Uniti e Inghilterra c'è molto poco propensità al rischio e di investire i loro soldi cioè a parte adesso stavo raccontando del film che avete fatto voi però secondo me è anomalo come cosa non è una roba che è molto comune mentre la cinematografia inglese è piena di film che si sono autodifinanziati e vari soprattutto di tutti i tipi diversi e secondo me questa è una cosa un po' latina di dire no va bene usiamo i soldi degli altri ci assicuriamo che abbiamo il backing allora devi usare per forza soldi della produzione Rai devi usare per forza soldi della produzione Sky e nel momento che tu fai quello la tua storia non è più tua perché cominciano a mettere il ditino anche loro no? Guarda è molto complesso parlare di queste cose qua quello che ho provato a fare è tipo andare al Mibact che è quell'organo che finanzia progetti cinematografici quindi ho parlato con uno dei responsabili perché volevo fare un'intervista al direttore per cercare di avere uno spaccato di come funzionasse quest'organo però non ho parlato con il direttore ma ho parlato con un responsabile che c'è prima e lui dice guarda questo qui è il bando noi prima che ti diamo i soldi ci devi garantire uno chi ti distribuisce il film? Ragazzi cioè se avevo chi me lo distribuiva forse non l'ho già fatto poi gli attori che ci sono dentro perché gli attori portano gente al cinema alcuni sì alcuni no il regista se quel regista ha già dimostrato di aver portato al cinema un po' di persone ragazzi cioè se io avevo già tutte queste cose hai bisogno di esperienze per lavorare ma se non lavori non hai esperienze è la stessa cosa ma più che altro se il meccanismo è questo come fanno a uscire progetti diversi se no escono se tu prendi la tua carriera da regista come uno che apre una pizzeria cioè se io apro una pizzeria o un negozio di noleggio di materiale un service cioè tu avrai investito qualcosa no? sì se tu avessi preso quello che hai investito lì e li avessi messi in un film rischiando tutto va bene sono d'accordo però li metti in un film hai un bel budget per fare un film a meno cioè hai un buono punto di partenza probabilmente di più di quello che avete speso per fare il vostro lungometraggio è molto rischioso in realtà cioè adesso ho accumulato un po' di attrezzatura ma è attrezzatura che si è accumulata attraverso il debito non è che tipo quattro anni fa avevo hai messo 200 mila euro hai capito sì 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 prima ne ho presi dieci poi però non so uno che apre effettivamente una pizzeria quanto ti costa aprire una pizzeria mi hanno 150 mila euro tra fitti cose sbattimenti se te vuoi fare il regista o il fotografo o qualsiasi cosa secondo me devi trattarlo come un business allora tu stai aprendo un business prendi il rischio cioè non ci metti dentro la tua eredità e non hai bisogno di tutti questi organi perché poi la distribuzione esiste c'è internet effettivamente se tu produci un prodotto valido con una buona comunicazione la possibilità che viene vista è molto alta non è come una volta però io conosco una storia che rappresenta il contrario di quello che è la tua percezione è una storia è un'eccezione ok perché non è assolutamente la regola però è la storia di un regista che tanto è un ragazzo che ho intervistato che è nato dal faceva il videomaker di ragazzi di parkour poi si era rotto i coglioni di fare i soliti video di parkour ha detto ragazzi andiamo in Marocco andiamo in Marocco e fate i vostri salti in Marocco nessuno aveva mai fatto il parkour in posti diversi dallo street e questa cosa qui l'ha obbligato a guardare ad avere una sensibilità diversa sulle inquadrature quindi lui arrivava da quel mondo là poi ha investito e ha fatto un progetto suo investendoci girando un po' il mondo e da quel progetto là hanno iniziato a chiamarlo le aziende wow che bello il tuo video perché non fai qualcosa come il tuo video però con i nostri prodotti poi ovviamente le cose andavano bene perché effettivamente ragazzo di talento e poi sono le teleagenzie capito che hanno detto belli i tuoi video proprio belli ti va se ti mettiamo in gara e lui è iniziato ad andare nelle gare poi si è organizzato con i suoi amichetti cioè i suoi soci sono andati in banca hanno chiesto un mucchio di soldi ha detto ragazzi ma noi facciamo il progetto della vita e ci hanno creduto cioè hanno preso un mucchio di soldi e sono andati sono partiti tipo in Medio Oriento dove mica sono andati ed è andata male ah succede capito perché lì tipo hanno litigato uno ha lasciato di morire ma infatti il problema il problema del business sono i soci che ti porti dietro cioè è sempre rischioso e cioè secondo me il problema dell'artista invece è che non è quasi mai bravo a fare business a capire quella roba lì e chiedilo Andy Warhol esatto ma infatti Andy Warhol per me cioè è è molto più businessman che artista certo cioè lui è principalmente cioè lui ha capito come funzionava cioè lui era creativo nel mondo del business poi sapeva disegnare però cioè non è un un van Gogh o cioè lui alla fine diceva questo è figo da paura facciamolo facciamolo i quattro tra Warhol e Basquiat è molto più interessante Basquiat certo però Warhol segna un'epoca perché Warhol si è fatto vedere dappertutto e poi lui era anche quello che finanziava gli altri allora si faceva importante era sempre sulla parola delle persone perché lui ah c'è Basquiat di chi è amico ha di Warhol da paura allora Warhol viene fuori comunque no e o Banksy adesso già Banksy Banksy sembra un collettivo però dicono che ma dicono un sacco di cose su Banksy che è il tipo dei Massive Attack potrebbe essere potrebbe essere però ha 80 anni il tipo di Massive Attack forse è uno uno dei Banksy bisognerà farci un film su Banksy ma hai mai visto il Mr. Brainwash no è praticamente questo francese che si chiama Mr. Brainwash che ha voluto fare un documentare su Banksy allora lui va ad intervistarlo fanno tutto un progetto e poi Banksy lo convince di diventare lui stesso artista lui diventa artista e investe prende uno spazio a Los Angeles mette dentro un elefante lo dipinge di rosa fa tutta una serie di robe pazzesche e vende quadri a miliardi di euro dal nulla praticamente perché viene pubblicizzato una litre tra lui e Banksy e questo lì tra lui e Banksy lo rende famosissimo e sembrerebbe che lui stesso è un progetto di Banksy tipo io posso far diventare chiunque un artista guarda eccolo questo Mr. Brainwash cioè che effettivamente le opere sono fatte da Banksy però Mr. Brainwash era l'immagine e lui era l'opera d'arte che figata ma Banksy è fuori di testa la roba del quadro all'asta che si si distrugge e adesso ha fatto una roba e poi vale un botto vale di più adesso vale di più distrutto su Venezia l'opera con la nave tipo Canaletto sì sì grandissimo il ragazzo di cui ti parlavo prima cioè dopo questa esperienza devastante per X cioè ha trasformato questa tragedia in un progetto vincente ah vedi nel senso che l'ha trasformata in un film suo dove la conclusione è qualcosa che è andato male capito ma vedi questo è interessante esatto capito come si chiama Riccardo Camello però è un progetto che io non ho visto che lui sta ancora portando avanti ma portava questo progetto se ho capito bene a delle case di produzione per parlare di altri progetti e fatto sta che insomma questo progetto qua ha colpito ha colpito una case di produzione di Milano che ha intervistato la Brandon Box che praticamente quando si è ritrovata ad aver convinto la Bonelli editore a trasformare una delle loro storie uno dei loro fumetti in un in un film vero e proprio cacchio hanno chiamato lui ma vedi allora alla fine quei soldi che lui ha perso nella parte li prenderà un'altra comunque se non lo faceva non avrebbe avuto lo stesso percorso e questo è il primo progetto dove finalmente c'è un po' di incoscienza no? comunque ci mettono più di 10 milioni di euro e comunque li mettono sulle spalle di un ragazzo che alle spalle non ha altri lungometraggi passati al cinema e quindi questa incoscienza sana pulita di credere in un talento sì ma non stai credendo solo in un talento stai credendo anche in una persona che ha toccato cioè che ha capito cos'è perdere un botto di soldi cioè hai una certa responsabilità in più o diventi proprio totalmente scemo oppure se non lo sei cioè lavori con un po' più di coscienza allora cominci a capire cos'è un budget come rispettarlo cioè io darei più fiducia a una persona che è stata scottata in quel modo lì invece di che l'ha trasformato in un progetto vincente esatto che lo porta avanti cioè secondo me è figo e tornando al punto di partenza secondo me è esattamente la cosa che manca cioè andiamo all'ente andiamo a chiedere soldi all'Unione Europea per opere artistiche e robe del genere tiriamo dentro una producer che cerca finanziamenti ancora prima di effettivamente crederci te stesso e metterci dentro la pelle ma infatti alla fine cioè noi abbiamo provato a cercare sponsor ok cercare investitori a cercare cioè un po' di cash per farci fare questo progetto alla fine ce l'abbiamo messo noi ok 15 mila ok intanto tirali fuori cioè io per quelle due settimane comunque servizi persi qua comunque è costato ok però ci ha permesso pure di esplorare è libero totalmente libero e quello che è successo però anche questa qui è un finale positivo che ha girato diversi festival finché dopo alcune recensioni positive tra toronto berlino tipo in india è andato particolarmente bene è arrivata una sales agency che ha detto sono liberi i diritti internazionali del vostro film perché ci interessa sì sì sono liberi e da lì abbiamo iniziato a capire che cosa cerca una sales agency ad esempio quali sono i parametri con cui valuta un progetto esatto perché cioè finché tu scrivi con tutta quell'incoscienza di fare qualcosa che non hai mai fatto è tosta invece adesso abbiamo fatto questa esperienza abbiamo capito che cosa intanto serve che cosa è importante dove ha più senso investire le cose proprio più urgenti e poi il percorso che farà dopo quindi collegandosi anche con una sales agency sai già dove andare a spingere cioè è importante perché così puoi confezionare il prodotto ragazzi no no vai 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 tranquillo poi volevo attaccarmi a questo cioè una delle cose più difficili che nessuno poi ti spiega finché entri dentro è proprio sono tutte cose piccole ma super tecniche burocratiche che ci sono dietro ma tu hai parlato di Berlino di Toronto se non sai niente del giro di film festival ci devi entrare in qualche modo per forza e qualcuno o per puro caso facendo ricerche su internet o comunque cioè qualcuno ti deve spiegare un po' perché è un mondo che se non ci entri proprio non sai neanche che esiste allora cioè ci sono diverse agenzie che ti vendono questo servizio cioè ti dicono dacci il tuo file noi lo facciamo girare dove sappiamo che è giusto farlo andare e ti gestiamo noi ok a volte conviene perché risparmi un po' di tempo piuttosto che scriverlo a festival minori spendendoci anche dei soldi loro cioè già che ti hanno selezionato tipo già che ti accettano è perché sanno che possono inserirti in un determinato segmento di festival dove potenzialmente puoi funzionare perché giustamente anche loro non vogliono perdere tempo e quindi e soldi questo da un lato dall'altro lato tu puoi fare quello che ha fatto Ciro cioè iscriversi a Film Freeway e selezionare dei festival certo un po' a caso o cercando di seguire un minimo di 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 senso e vedere come va intanto che il percorso del videomaker che non sa niente all'inizio e che esplora facendo errori sì certo voi con Chef avete affittato l'anteo una volta anche il Messico esatto quanto costa affittare un cinema dipende perché io non ho mai seguito la parte di soldi ma va dai 800 ai 2000 3000 prendi 3000 euro affittilanteo una serata lo riempi in qualche modo cioè diventa un evento e poi da lì può partire un sacco di cose effettivamente 3000 euro su un su un progetto della vita non è tanto no no poi nel senso allora lì è stato un progetto per Adidas quindi non era neanche il nostro era un po' più semplice c'era un marchio dietro che spingeva poi tutte le persone che sono venute lì erano i nostri contatti e sono venuti perché l'abbiamo fatto noi e c'era anche tipo per culo c'era anche Ben Harper che anche lui va in skate e quindi era in Italia per quel momento lì e l'hanno invitato ed è venuto è esploso tutto il mondo è sedito sul palco con noi però il prodotto non era il nostro il sì però vuol dire c'è un posto dove no invece infatti stavo arrivando tipo il cinema Messico invece che è rinomato è fighissimo quello è stato proprio per proiettare un documentario che abbiamo fatto lì costava ancora di meno per puro culo non so chi ha tirato in mezzo il proprietario e lì è stato figo riempire una sala con qualcosa che hai fatto tu cioè un mese del tuo tempo mi ho fatto un mese in Cina abbiamo è stato il primo vero esperimento serio di fare un documentario raccontato con parlando sono andate a schettare in Cina ed è ed è stato figo è stato proprio bello e lì abbiamo scoperto un mondo però quello era prima di sapere tutta questa cosa qua di Film Freeway Film Freeway giusto? che abbiamo scoperto dopo con il corto di Takuya quello dopo abbiamo detto ok ma ci deve essere un social media o qualcosa per i film festival e cerchi e guardi e perdi tempo perdi ore perdi giorni ah comunque cioè questa qui è la barriera d'accesso ok cioè se tu vuoi fare una cosa che non ti chiede nessuno e che nessuno cioè perché esatto lo devi volere tu e se la vuoi tu te la devi guadagnare e te la devi guadagnare con i denti e ti devi inventare un modo ma che cazzo vuoi? esatto è quello tutto il mio cioè quello che dico a tutti quelli che iniziano è che quanto lo vuoi perché se tu non lo vuoi non vai da nessuna parte cioè devi proprio essere convinto che questa è la tua vita che quando ti svegli al mattino lo vuoi fare che ogni momento che hai che non è quello che devi fare per guadagnarti da vivere e non è quello che devi fare per dormire le tre ore a notte tutto il resto è dedicato a questa roba qua se cominci a giocare a World of Warcraft per sei ore al giorno non arriverai in nessuna parte guarda io sul sito c'è una finestra che si chiama progetti e ci ho scritto che aiuto e finanzio anche tipo al 90% la tecnica di progetti che mi piacciono molto ok mi piacciono per x motivi e decido di aiutare però quello che succede è che mi vengono sottoposti tanti progetti dove dicono mi dai l'attrezzatura gratis cioè quello già parti male infatti cioè cioè alla fine fanno fanno un po' di costruzione intorno però poi alla fine io capisco che sono l'unico a investirci esatto o c'è tutta un'altra serie di player che insieme a me sta investendo sul tuo progetto ma se io sono l'unico a investire su di te a bello cioè non ci siamo capiti esatto no deve essere un lavoro di squadra alla fine e tutti quanti devono avere il pelle nel gioco perché se io ti do il materiale che io potrei affittare qualcun altro e guadagnarci e te fai una cagata mostrosa cioè può venire fuori lo stesso però se te fai una cagata mostrosa e ci hai messo dentro i soldi è meno possibile o almeno ci bruciamo tutti quanti se invece sono l'unico che si brucia mi gira anche un po' i coglioni perlomeno a me non è mai capitato di andare a chiedere favori o inventarmi situazioni per cioè io volevo girarmi un film mi sono fatto il mio negozio di noleggio e non ho rotto i coglioni a nessuno ok perché lo volevo quello che vedo mancare un po' è l'iniziativa per tirare su cash cioè inventati un modo cioè non sono io la tua soluzione io ti posso aiutare in qualche modo ti agevolo perché comunque mi piace mi interessa ma non è così che si fa poi certe volte quando hai un progetto in mano sei un minimo di se sei un po' troppo gentile o sei un po' troppo timido non ti viene neanche di chiedere a qualcuno un aiuto noi abbiamo fatto un tour sempre di skate a New York abbiamo detto boh proviamo a usare solo iPhone per girarlo perché partiva da un pretesto che io non volevo portare lo zaino con la telecamera che usiamo noi che è ancora la VX1000 cioè di 20 anni fa che pesa e tutto io volevo godermi le strade di New York e quindi abbiamo detto ok giriamo solo in iPhone e vediamo cosa cosa esce fuori e facendo una ricerca che tra l'altro è uscito fuori quella USB quello la Geggio lì l'ho trovato perché cercavo Sandisk esatto questo Sandisk per l'iPhone l'ho trovato facendo ricerche per fare questo kit perfetto è una figata mi ha salvato la vita quella roba lì e ho scoperto questo questo brand che faceva che si chiama Moondog Labs che fa la lente anamorfico per l'iPhone però fighissimo che hanno girato anche un film che ha vinto non so cosa cioè tipo qualche film festival e poi gli ho detto io compro qualcosa ho comprato qualcosa e poi gli ho detto ma che ne dite di questo progetto mi hanno risposto subito mi hanno mandato una lente e io ho comprato cioè tipo i filt e tutto abbiamo girato tutto con quello è stata una figata mi aveva aperto un mondo vedi questo qua è andare in profondità cioè se tu non avessi avuto questa esigenza profonda non avresti trovato né quello né le lenti esatto e poi anche avete non era un ragazzino che è venuto su e ha chiesto delle cose siete delle persone che avevano già prodotto delle robe interessanti da mostrare dire senti noi con il tuo prodotto facciamo qualcosa di buono se mi dai il tuo prodotto cioè proviamoci allora c'era un po' di quid pro quo che è importante quello che diceva lui non mi vieni chiedendo soltanto l'Alexa io non te la do l'Alexa se non ho mandami lo script fammi vedere chi ci sono dentro cioè tutte le solite cose che devi fare quando vuoi fare un progetto proponimi MundoGlabs adesso stiamo stiamo provando le robe della Beastgrip solo nomi brand esatto Beastgrip grandi iPhone Apple stanno facendo un grandissimo lavoro lì mi hanno chiesto di taggarli comunque davvero? sì 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 ritagghiamo ritagghiamo se ci mandate altri due kit cases figata bravo poi estrago questo pezzo qua lo mandiamo in DM esatto esatto assolutamente e poi stiamo provando i knusa taco track non ci sta ancora cagando per la mano da tirare non l'abbiamo ancora chiesto non l'abbiamo ancora chiesto effettivamente io organizzo queste pause birre tutte a base i knusa ecco cioè al posto di spendere 100 euro al mese in ADV in Instagram in Facebook io compro 100 euro di birra e ogni fine mese organizzo questa pausa birra dove invito a quelli del settore a venire a bersi sta birra gratis da me io vivo a 10 metri e non sono ancora riuscito ad andarne a uno sono sempre via sono sempre via sempre via porca miseria tu pensi che io evito una birra gratuita ma neanche per sogno poi a 10 metri devi solo allungare la mano è comodissimo e questa roba qua sta mandando sta piacendo perché è un momento mongoloide per ritrovarsi fuori dal lavoro e parlare e questa roba qua manca nel nel settore ritrovarsi fare anche solo amicizia sì ma perché come dicevo prima sono tutti in competizione uno con l'altro è difficile mettere da parte un po' quella quella competizione per un momento cioè ne parla spesso Joe Rogan c'è anche un altro che seguiamo noi dei podcast che vabbè è il re dei podcast al momento Montemagno ne parla sempre esatto esatto e lui parla della comicità negli anni 90 che erano tutti lì che si odiavano perché volevano la sitcom c'erano 10 sitcom che venivano vendute ogni anno e volevi essere uno di quei comici quando andavi allo store o a uno dei club dei comici non parlavano tra di loro parlavi con i tuoi due amici ma gli altri cioè ti evitavano invece adesso con Netflix con Amazon con tutti questi altri modi che ci sono per guadagnare c'è molto meno competizione allora c'è più amicizia e tendono anche ad aiutarsi tra di loro allora io credo che anche tra di noi man mano che la crisi l'abbiamo un po' passata per fortuna cominciano a essere più spazi in generale per produrre materiale ci sono tutte le cose Instagram c'è un botto di materiale da produrre oltre alle cose fighe lungometraggi e robe del genere secondo me comincia ad essere anche qua un pochino meno questa roba di ognuno che si deve guardare le spalle perché se no ti ciulano il cliente secondo me dipende anche molto cioè è vero ma sono d'accordo con te com'è che era? sono d'accordo però se sarei io potrei essere d'accordo con te ma se lo fossi avrei torto che figata sentirmi dire fossi è molto bello non so neanche se l'ho usato giusto non so neanche io l'ho tradotto dall'inglese però parlando particolarmente dei DOP che cioè mentre il regista si fa competizioni con altri registi però è un po' più riconoscibile un po' più visto cioè chiunque può fingere di essere un DOP i segreti del mestiere di un DOP con un altro DOP è molto più cioè non è che lo stai svelando a qualcuno se lo sveli non è che lo sveli a qualcuno X che ti ruba il tuo modo di fare le luci quindi un po' più ristretto questa è la classica cosa ti arriva un regista che dice senti vorrei fare una luce tipo questa ma lui non c'è ci sei tu me la fai e se quell'altro DOP ti ha dato un'informazione su come fare quella luce lì te la fai appunto sto dicendo che la competizione è più tra i DOP mentre la regia sì la regia forse sono un po' più liberi perché tanto c'è che se ne frega esatto c'è Roger Dickens che ha un suo blog dove pubblica tutti i suoi schemi di luce è un signore che poco poco ha vinto l'Oscar e come dire non ha segreti se lui non ha segreti io mi chiedo ma più sei piccolo più ce li hai è come la Tesla la Tesla che ha messo tutti i suoi brevetti online e tu puoi vedere hanno fatto open source tutti i brevetti ovviamente quelli che non sta più usando suppongo credo che cioè quelli che gli servono ancora sono menstretti però ha aperto un sacco ha fatto open source un sacco di roba perché più la gente sa più si avanza lo stato dell'arte però è molto facile se sei uno che ha guadagnato miliardi a dire senti ragazzi ecco le mie schemi di luce va bene e invece uno che non li ha fatti si li tiene un po' più stretti perché forse è conosciuto per quella roba lì e non vuole far vedere guarda per quello che è il mio osservatorio conta tanto uno come ti relazioni quindi intanto che tipo di persona sei perché se se non funzioni sul set in qualche modo la gente non ha piacere a chiamarti certo ok poi sicuramente devi avere skills cioè competenze sì quello lo diamo di solito per scontato cioè devi essere bravo quello che stai facendo in un qualche modo e quindi conta tanto come ti relazioni come che tipo di come gestisci i momenti di stress come perché quando la gente parla parla di questi momenti topici certo ok quindi cioè perché è bello mettersi in bocca qualcosa di figo qualcosa di figo che rende figo anche te quindi se io ti parlo di un ragazzo che ha risolto in modo incredibile una situazione difficilissima tu cosa pensi poi di questo qua minchia presentamelo sì esatto ma infatti è quello perché faccio girare il suo nome e io faccio bella figura che presento uno figo capito quindi inizia a collezionare eventi del genere e vedrai che esatto accarrirà su per forza e te il la figura del DOP come sei arrivato a conoscerla nel senso che tante persone cioè di solito guardi un film cioè sto parlando quando sei ragazzino diciamo e vedi chi sono gli attori forse conosci il regista quando è che sei diventato consapevole che esisteva il DOP e che ti sarebbe piaciuto entrare in quel giro lì in quel mondo è poco prima di iniziare a fare film nel senso che cioè quando mi ci sono ritrovato dentro ho realizzato che effettivamente sono sto ricoprendo i ruoli e le responsabilità di un direttore della fotografia certo in un film piccolissimo ok però sto facendo direttore della fotografia quindi non è che posso non realizzarlo ok anche se cioè ho sempre questa forma di timidezza no nel definirmi così e l'ho confessata anche a a Bigazzi nell'intervista e e lui mi ha detto guarda è un bene che sia così perché ogni volta ti metti ti metti in discussione si chiama sindrome dell'impostore cioè il sindrome dell'impostore è che quando fai una cosa che ti riesce perché le altre persone pensano che ti stai riuscendo in qualche modo o che valuti che va bene dici se pensi nella tua stessa che non sei ancora in grado di effettivamente farlo che ti è capitato un po' per culo perché cioè ti senti un impostore in quel ruolo lì non sei non sei stato avallato da altre persone che tu reputi che sanno di quello che stanno parlando e quello ce li hanno un po' tutti gli artisti soprattutto all'inizio che non so fai il gittarrista fai un riff della madonna finisci negli stadi però sopra di te ci sono i Rolling Stones ci sono i Beatles e dici ma perché stanno ascoltando me quando c'è quella roba di molto figa invece te stai facendo un pezzo incredibile che nessuno ha mai sentito no? è comunissimo quella roba lì gli unici che non ce li hanno sono quelli che effettivamente non sanno che cazzo stanno facendo a me è anche quello tipo di solito il lavoro che meno tante volte dici cazzo questa è una cagata non mi piace è brutto tante volte piace è il lavoro che tutti gli altri dicono ma che figata e tu dici ma che cag... cioè io ho messo dieci minuti per farlo non mi piace neanche ma io il 90% delle mie foto io penso poi devi capire devi proprio analizzarle ma perché alla gente piace e poi spero che capisci oggi il mestiere del direttore della fotografia che in realtà per dirla giusta o per dirla nel modo certificato da Vittorio Storaro è autore della fotografia cinematografica ok che è un'altra storia rispetto al direttore della fotografia ok anche per una questione di diritti perché nei film chi piglia le royalties è il regista sì certo ok il direttore della fotografia non vede niente cioè hai lavorato grazie sì prendi quei soldi invece ci si sta un po' battendo no per portare un po' di royalties anche verso gli autori della fotografia ok ok ho capito comunque quello che cioè la tendenza di oggi è definirsi DOP capito già dal primo video cioè accendi la luce fai una foto un po' fighetta un po' di atmosfera one man sono un DOP eh calma cioè un attimino parlando con tutti i DOP che lavorano effettivamente sui set nel cinema capisci quante skills deve avere prima di definirsi DOP ah numero uno devi sapere tutti i ruoli che ti stanno sotto devi tenere una squadra insieme già è tosta cioè già devi avere sì devi essere un team leader il polso ok devi spingere quando vuoi qualcosa devi avere delle persone che si fidano di te se vuoi portarli al miracolo ok perché magari tu vuoi delle cose che sono difficili da ottenere e devi avere la fiducia della squadra altrimenti la squadra dice no no ragazzo certo cioè portatela tu una luce lì sopra sì soprattutto le squadre erano mari cioè io ho fatto talmente tanti riferimenti a Boris ma sì ma guarda Boris secondo me non è lontano dalla verità ma va è così famoso nell'ambiente di di produzione di di televisione che è ancora è ancora valido cioè li vedi quei personaggi ma fa morire il fatto cioè è una categoria abbastanza protetta quella dell'elettricista cinematografico mentre non so l'assistente fotografico lo trovi appeso a una fila di alta tensione scalzo bagnato no cioè l'elettricista ci sono tipo in 5 con il cherry picker che ti porta su tutto il mega sicurezza tutto perfetto preciso e alle 12 e 35 se non hanno mangiato la roba cioè si chiude tutto no ed è fantastico perché poi ragazzi cioè fanno delle robe non so il pack del generatore del flash con l'acqua fino alla cinta con le onde che arrivano e te sei lì a scattare loro stanno lì sono contenti anche di farlo cioè nel senso gasati prendono una scossa con ogni onda io ho fatto un lavoro come producer per uno spot della Motorola con David Beckham e non so allora mi hanno tirato dentro per una storia assurda che io facevo l'assistente per un fotografo che viveva a Los Angeles italiano la sua agenzia aveva anche Anthony Mandler che è il regista che ha fatto Disturbia di Rihanna lui è venuto a Milano e stava cercando un punto di riferimento milanese e non è andato dalla Film Master è arrivato da Andrea Olivo perché questo fotografo mi ha detto sì ma c'è un mio assistente che fa anche producer ha detto va bene ok poi sono cominciate ad arrivare le richieste e ho detto ok ho chiamato io la Film Master ha detto ragazzi io vi faccio la tramite va bene cioè rimango dentro in qualche modo e loro erano contenti di lasciarmi in quel ruolo lì perché alla fine ho beccato un sacco di fulmini però cioè produzione sapete farle voi queste cose qua perché effettivamente era un'altra cosa cioè cinema e fotografia sono due mondi totalmente diversi da produrre e allora abbiamo tirato dentro la troupe di Roma che è venuta su e le cose sbattimenti figa incredibile per fare una roba che un fotografo con i suoi assistenti avrebbero messo sarebbero stati a massimo in dieci eravamo in 45 però sai David Beckham allora c'è una stanza separata dove c'era il video video come si chiama video village video village con tutti i clienti le cose il catering fatto bene per loro eccetera 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 è anche un po' di presenza esatto devi fare la presenza non puoi essere lì in tre con uno che tiene la roba e l'altro che fa la cagata sembra una roba sfigata sembra una roba sfigata anche se la qualità è uguale gonzo filmmaking esatto allora devi investire un botto per fare una roba che effettivamente però la roba che mi ha fatto morire era proprio il tipo che mi arriva lì il capo elettricista fa olivo già che parlo sono le 12 e 32 cosa facciamo andiamo avanti o cominciamo a chiamare l'overtime ragazzi ragazzi lunch time fermiamoci budget budget perfetto dai fermiamo tutto perfetto si mangiano tutti quanti ok perfetto dopo un'ora esatti le 13 e 32 ok adesso olivo possiamo ricominciare i ragazzi sono pronti ad andare avanti alle 6 e 02 olivo cominciamo la battaglia cominciamo ok ragazzi aspettate quante scene dobbiamo ancora girare che poi era una cagata però era lui che girava su un pedestallo punto una giornata incredibile per forza si 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 ci stava comunque david beckham è forse l'uomo più bello della storia cioè incredibile incredibile cioè io non ho mai visto cioè era come vedere la madonna no ma il david cioè quella roba lì proprio statuesca perfetto ogni muscolo in suo posto cioè non un filo di grasso simpatico superman era lì darmi il pacco oh da paura come stava facendo olivo era qui era qui l'unico motivo perché è successo tutto questo bordello è che lui era qui che stava giocando nel Milan quel periodo lì allora siccome era già qua hanno fatto vedere il cui regista invece di farlo andare la Los Angeles con la moglie comunque esperienza mistica e lì ho detto ah ok io non so se voglio fare produzione di video assolutamente io non potrei mai farlo no è veramente guarda a me è capitato di girare una delle coperture video per una lavatrice ok e non mi fosse mai lì ho fatto la regia ok e cioè fantascienza 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 sui cioè su quante persone ci vogliono per fare la luce per illuminare una sfaccim di lavatrice sì riflessi ma no poi servono così tanti perché io non posso andare a tirare fuori il cavo dalla presa eh no perché per regola dalla spina dalla spina per la regola di sicurezza lo può fare solo l'elettricista autorizzato che lui può collegare scollegare la roba cioè ragazzi cioè gli assistenti fotografici cioè no ma lì ma ci stanchi perché entri in un universo fatto di regole invisibili dove che ne so tipo il macchinista che stava utilizzando un PeeWee cioè il PeeWee è una sua estensione se tu un carrello con una specie di di braccio idraulico che si alza ok 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 ho capito con le ruote questo tipo quasi cioè una cosa di valvole di pressione di ruote steampunk per un macchinista una roba del genere è proprio sentirsi un transformer capito è proprio wow capito la tocco io questa roba qua ok Optimus Prime secondo me vivono una cosa del genere e praticamente lui doveva fare un giro intorno al soggetto doveva replicare una curva che doveva essere sempre la stessa e e lui doveva farla a mano no a mano perché lui è bravo no e deve dimostrarti che è bravo e quindi vuole a mano a fare questa questi 180 gradi la seconda volta non è venuta uguale ha detto vabbò ok la faccio rifare la terza volta la terza volta non è venuta uguale quindi mi sono dovuto avvicinare a dire senti non è che si può bloccare la curva così siamo tranquilli tu lo spingi avanti e indietro però la curva è uguale no la quinta volta ha sbagliato ancora e poi mi sono incazzato scusami ma zioca ma blocca questa sfaccima di ruota e vedrai che viene bene e infatti poi è venuta bene sì certo però c'è devi aggiungere la sfaccima per ottenere delle robe devi andare l'operatore anche lui doveva dimostrare che era bravo a fare un tipo di movimento e poi alla fine quando gli ho fatto fare tre volte non è venuto senti basta i giochi sono finiti ma fai come dichi io time is money money is time sei arrabbiato ah Luca però tu prima insomma mi dovevi prendere da parte voglio ma hai capito cioè è così perché ovviamente ognuno deve portare la sua arte deve dimostrare e secondo me cioè è una roba che mi manda fuori di testa a me sempre cioè no 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 amico mio cioè adesso sono io amico mio io sul mio senso sono il cazzo di generale ok sopra di me c'è il presidente che potrebbe essere il direttore creativo e la stylist sotto di me siete tutti voi cioè non c'è è una gerarchia netta e non c'è nessun tipo di parità cioè basta cioè te fai luce lo voglio la no no la basta cioè andiamo avanti dove va la poi almeno se sbaglio sbaglio io no non è che sbaglio cioè perdo tempo perché ma è quello cioè se tu prendi la responsabilità dello sbaglio esatto forse ti rispettano anche dicono l'ha voluto così allora sti cazzi io lo faccio sì 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 sono tanti di quelli che dicono poi sei stato tu ma lì non trovi più crew alla fine se la prossima volta che devi fare un lavoro ti dicono no non vengo se cominci a fare le crew per quello per quello che è molto complesso cioè poi cioè tornando sul mestiere del direttore della fotografia oltre a saper gestire bene il suo staff la sua crew cioè deve anche interfacciarsi con quelle che sono le esigenze creative del regista cioè lui deve tradurre in immagine quella che è una richiesta tipo ho fatto un'intervista a Gianfilippo Corticelli che praticamente stava riprendendo una scalinata di un interno di un palazzo no e il regista gli ha detto senti queste pareti bianche insomma mi sembra un po' tutto così vorrei un tocco barocco ma tu devi sapere cos'è barocco sì capito devi trovare una soluzione lì per dare questo tocco lui ha preso una luce l'ha piantata dietro queste ringhiere che avevano tutte queste tutti questi disegni no ha proiettato ha fatto un'ombra tutta questa parete bianca ecco qua è una cosa che a me fa sballare cioè trovare quella soluzione che dici non so metto un po' di vaselina sopra la lente cioè una cazzata del genere e ti trasforma tutto e dici trasforma tutto ma cazzo ma come l'hanno fatto chissà come l'hanno fatto io ho capito che il segreto è sempre avere un po' di fumo un leggerissimo haze l'incenso l'incenso l'altro giorno l'ho visto in un negozio di noleggio ma che cazzo è l'incenso l'incenso sai la pompa per le api ok tu prendi uno di quelle lì con un po' di carbone dentro ci metti l'incenso e tu fai la perfetta haze machine non c'è di meglio l'ho scoperto su questa roba qui di Motorola che noi abbiamo chiesto la haze machine a Milano non si trovava all'epoca quello in realtà era solo David Beckham che aveva una haze naturale intorno a lui no haze machine non voglio haze 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 è arrivato lì questo qua che tira fuori questa roba il regista lo guarda come se fosse un alieno perché ovviamente venendo da Los Angeles c'è la macchinetta che fa esattamente il tipo di smoke che tu vuoi e lui arriva lì bandiera piace o ne vuoi di più io l'ho visto su un insetto e questo qui è rimasto lì e ha detto ma è incredibile perché poi l'incenso rimane rimane tantissimo in aria ed era risroccato ha comprato un chilo di incenso se l'avrò portato a casa io questa roba non la trovo la Stanger sono tutti atei perché pensi che le chiese hanno sempre questa atmosfera ma è una roba da prendere assolutamente il prossimo puntato lo facciamo qua facciamo con un po' di hails ma si dai va bene facciamo una cosa io ho la macchina del fumo basso che in realtà semplicemente ha un vano dove mettere del ghiaccio questo rimane un po' gotico esce come tutte le altre macchine del fumo però prima di uscire si fa questo bagno dentro il ghiaccio quindi si raffredda se c'è l'aria calda l'aria fredda sta giù e quindi si forma questa coltre sotto di fumo l'ultima volta che ho analizzato una macchina del fumo mi arriva un altro analeggiatore molto famoso di Milano che mi fa mi fa questa macchina è una figata fa il fumo di tutti i colori ma come fa il fumo di tutti i colori no no ma tu lo imposti te lo fa rosa te lo fa verde te lo fa blu va bene ma serve bianco l'importante è che fa bianco comunque grazie tutto il resto finissimo però ero curioso mi dicevo ma cosa sarà sarà un colorante sarà qualcosa no ti credi era una luce nel cazzo potevi cambiare il colore e ti cambiava ma lo faceva bene no faceva che gara allora mi ho chiamato mi ho detto oh senti va bene tutto non mi serviva no però poi questa roba qui non è un plus di questa macchina a parte che stiamo facendo foto allora la lendina che cazzo ti fa ma cioè stai calmo no ma è gasatissimo no ma non capire sono come quelli che ti vendono lo stereo che ha tutte le luci sopra no fa un bato di luce e io per fortuna che non mi sono gasato su sta roba perché il cliente dice ma no perché poteva essere un po' rosina o qualcosa e ho detto ma sto gitto finché non ho aperto la macchina perché non si sa mai infatti poi ho visto la roba bianco facciamo un po' di mettiamo un po' di accidiamo la neon ma benissimo sarà rosa madonna dobbiamo fare una puntata tipo totalmente cinematografico vediamo che cazzo succede dici dobbiamo prendere tre all'examini per fare le riprese moca ah ecco sul discorso parlando di alta di alta definizione alta definizione ah davvero sull'episodio con Carnera mi ha colpito una cosa che è proprio all'inizio stavo dicendo che secondo lui cioè chi se ne frega di 6k 3k quello che è perché alla fine nella sala di proiettazione non è che si vede tantissimo è più importante come il sensore tratta la luce sì e lì ho capito che quello lì non croppa dopo la dopo la ripresa perché ho detto no perché 6k per me sono molto importanti perché io posso fare una ripresa di merda e poi andare a sistemarlo un attimino anche raddrizzarla perché raddrizzandola ti croppa di bestia esatto lì si che funziona il stabilizer di premiere e ho detto ah vedi questo qui probabilmente prende e lo mette lì ed esce così perché non l'ha neanche prenduto in considerazione che poteva essere assolutamente c'è 6k perché dovrei usare 6k se non sì lo prendo perché Netflix ha bisogno di produrre materiale in 4k però è quello non è importante ma sì io la Sony Alpha 2 giro sempre in 4k e poi ritaglio ti fa un effetto se lo usi come mi sa Kendrick Lamar in un video che hanno ripreso tipo una scena di loro sui palazzi e da lontano e poi hanno zoomato digitalmente e fa un effetto di zoom super strano cioè proprio un po' surreale infatti sono quelle cose che se lo usi in modo interessante figo se lo usi come paracadute ma ragazzi il paracadute è molto importante non dimenticarci mai di quanto è importante in generale adesso ci sono due grandi tendenze cioè la tendenza di puntare sul colore e sulla profondità del colore e sulla scienza colore oppure puntare sulle dimensioni del sensore e del del fare in uscita in realtà una cosa interessante che mi ha detto ieri all'intervista Massimo Proietti è che cioè gli ho chiesto lui come vede il futuro del cinema con Netflix che sta dominando che ci fa stare a casa a guardare le serie e i cinema che si stanno svuotando che sono sempre insomma li riempio che Cozzalone e la Chiara Ferragni con grande dolore per la Chiara Ferragni perché Cozzalone lo adoro pensavo grande dolore era il nome del film lui dice cioè con il fatto che abbiamo dei televisori che sono una figata pazzesca e che a casa possiamo avere una qualità molto alta di fruizione e di goduria tu salvi la sala cinematografica dando al pubblico un'esperienza che a casa se la sogna sì esatto quindi schermi più grandi qualità più alta e poi ti sfido a stare a casa a guardarti Avatar 2 no infatti per me l'esperienza adesso io prendo sempre non so la poltrona super larga con i braccioli cioè perché io se vado al cinema non voglio stare sulla seggiolina che mi sembra di essere in treno a guardare il film sull'iPhone cioè voglio essere centrale e avere cioè comodità sarebbe fighissimo se ci fossero delle persone che vengono dentro ogni tanto e ti danno qualcosa da mangiare no? servono cioè io spenderei più un cazzo di cocktail qualcosa cioè se trasformi l'esperienza in una roba cioè ci sono i teatri dove ti danno il secchio di chicken e mangi il pollo e robe e ti danno la birra le cose però cioè Joker c'è l'intermissione a metà io non voglio che tu mi interrompi il film così posso andare fuori in bagno cioè due ore di film posso star fermo vuoi qualcuno che ti porta il bagno esatto voglio che mi metti il catetere tu mi metti il catetere appena entro la poltrona di Homer Simpson esatto voglio dire mi organizzi in modo che cioè io posso avere l'esperienza senza che tu me lo stacchi perché lì in quel momento che me l'hanno staccato io mi sono incazzato perché io ero talmente dentro al film che ho proprio provato odio perché devi vendere le robe una volta c'era il tipo che veniva in giro con la lucina vuoi noccioline vuoi popcorn vuoi qualcosa e diceva anche le persone di stare zitti esatto e tu hai un bottone sulla tua sedia facilissimo dici voglio un popcorn e ti arriva un popcorn anche perché nel mezzo lo finisci e dici cazzo esatto esatto è per quello che serve l'internation che vai lì a prendere altre cose spendi altri soldi perché loro guadagnano su quello adesso c'è Frank Merenda che è un tizio che fa marketing vende soluzioni di marketing e lui dice ragazzi cinema cos'è il cinema è un'esca per vendere popcorn a 10 euro esatto cioè popcorn cosa costerà la sala cioè la sala non vive sul biglietto vive popcorn e coca cola a 10 12 euro e tu sei contento di spendere perché poi vai lì ogni tanto ma invece io volevo chiedere una cosa cioè tipo il fatto che tutti questi film di netflix tipo the irishman che sono film a livello i cinema sono proprio ad altissimo livello però escono tipo forse per una settimana e poi escono subito io non lo sapevo che uscisse su netflix irishman c'era proprio netflix original ma loro hanno comprato un cinema dove proiettare i film di netflix o sbaglio allora la situazione è ancora ibrida e stanno capendo che cosa fare quello che ho capito io è che attori grossi decidono di inserirsi in progetti di netflix per puntare agli oscar altrimenti loro dicono ragazzi cioè non perdiamo tempo per andare agli oscar tu devi passare nelle sale quindi netflix è obbligato a passare nelle sale dopodiché adesso devono un attimino capire perché le sale stanno tirando un po' le cuoia perché non è più come prima ok e netflix sta generando dei contenuti pazzeschi che che non cioè netflix non gliene viene in tasca niente capito a dare la priorità alle sale perché perché chi è che ha investito ragazzi per game of thrones ha già investito io o avete investito voi quindi perché vi devo dare la priorità no no infatti infatti nelle serie perché lì ci sono gli Emmy ci sono i grandi attori li trovi perché poi vincere un Emmy no invece sui film hanno sempre questi attori però De Niro Al Pacino esatto non vengono per fare i film forse vengono a fare la serie però adesso c'è questo nome qua sta succedendo una cosa interessante negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti c'è per una regola del X del 53 tipo le case di produzione non potevano avere cinema di proprietà adesso lo stanno togliendo sta cosa qui allora Disney può comprare un cinema o può aprire un cinema Netflix potrà aprire un cinema allora se tu sei Netflix apri un cinema in New York un cinema in Los Angeles fatta e fai come Amazon che sta facendo con i libri esatto hai già risolto tutto e tu dici va bene in concomitanza con l'uscita qua facciamo anche l'uscita lì il problema è risolto così ci sta esatto fai una settimana di uscita così c'è anche meno meno tempo per andare al cinema quindi forse dici ok vado subito subito lì vieni i biglietti esatto vieni i biglietti e poi non aspetti un anno che c'è il gioco che ha fatto un miliardo di euro è fantastico devi vederlo super assolutamente io con queste mega novità ho questo atteggiamento passivo dove prima lo faccio guardare a tutti poi hai capito anche io tendo ad averlo però mi brucia che non l'ho ancora visto Once Upon a Time in Hollywood però è uno di quei film che secondo me è da vedere al cinema è veramente spettacolare cioè uno dei miglior film degli ultimi Joker degli ultimi anche il fatto che hanno fatto il titolo come i vecchi tempi non è una grafica ah si l'hanno ripresa digitale l'hanno ripreso accettato esatto proprio la tecnica quindi vedevi proprio la pasta ma l'avete visto in lingua originale o in italiano io l'ho visto in italiano ma non dà fastidio allora io ho sentito l'intervista di Stefano Accorsi da Montemagno e diceva che lui si era prenotato un posto in un cinema gigante dove lo proiettavano in lingua originale e perché a quanto pare Phoenix ha fatto un lavoro molto tosto sul linguaggio sì sicuramente a Nanteo sicuramente da vedere anche in inglese perché è un peccato non vedere il lavoro di lui effettivamente di lui con la voce eccetera eccetera io l'ho visto in italiano perché sono andato a vederlo a Vughera cioè c'era solo quello ho detto voglio vedere almeno una cinematografia sul grande schermo poi mi godo forse quando esce su Netflix me lo guardo in inglese anche 20 volte mi va bene è fatto talmente bene cioè nel senso ci sono delle scene dove scrive e tu vedi la scrittura in italiano non è scritta in inglese allora non ti stacca dalla magia perché non è che leggi a horse was down the road leggi un cavallo e raggi un'altra strada ed è molto più curato poi obiettivamente i doppiatori italiani sono bravi allora funzionava non mi ha dato fastidio però una cosa che sta facendo buono Netflix è che ci sta abituando a guardare i film in lingua originale senza il disturbo cioè pure a noi italiani siamo abituati alla comunità comunque ci guardiamo serie tedesche spagnole in lingua originale sempre in lingua originale spagnolo ancora faccio fatica perché la recitazione è simile a quella italiana e quella italiana faccio sempre fatica Baby la serie di Baby la stai guardando un pochino cioè però cade sempre in quella teatralità che non mi piace è poco naturale no? è molto scolastico Scamarcio che ha fatto quel film che poteva essere una figata cioè quello un po' B-movie come si chiama? dove ha fatto il fa il milanese però che mafioso sì è girato tutto è molto figo anche il concerto un po' preso per il culo però non è credibile cazzo io faccio una fatica bestiale non so gli attori italiani non ho ancora trovato cioè e poi se c'è uno bravo come dicevi te all'inizio c'è uno bravo poi ci sono cinque che sono dei cani e dici porca troia cioè mi stai smontando perché io non posso stare dentro il film se c'è solo uno bravo non mi non rimango eh ma cioè ci sono dinamiche cazzo super sofisticate cioè ne parlava a corsi nell'intervista dove diceva non mi ricordo in che film però c'era De Niro con un che doveva fare un dialogo con un'attrice giovane ok che non era particolarmente esperta e la richiesta del regista era che quest'attrice avesse l'espressione veramente stupita ok e praticamente gli hanno fatto provare la scena per un'ora poi quando erano con tutte le battute scritte perfette che le dicevano perfettamente forza si gira praticamente pronti via si siedono azione De Niro parte con un'altra cioè cambia si totalmente cambia totalmente l'espressione di lei com'è perfetta perché è vero capito è pura esatto ma lì è grande regia è grande recitazione ma poi grande anche lei capito che comunque sta al gioco e rimane lì e in qualche modo ce la fa poi è bravo l'attore magari a recuperarla però vedi questi equilibri queste energie queste robe di azione e reazione eh ma infatti è una cosa che io non vedo cioè allora ammetto che mi sono da un paio di anni che non guardo più film italiani e spagnoli spagnoli perché mi danno fastidio loro non so come mai cioè ragazzi è una roba che proprio li riconosco il secondo che giro sul canale mia moglie li guarda sempre tutti i casi di carta robe del genere io entro nella stanza guardo e faccio è una roba spagnola questa sì ma c'è qualcosa non so lo riconosco subito e mi urta e allora evito e i film italiani ho veramente tanto tempo che non guardo forse l'ultimo che ho guardato tutto è stata la grande bellezza perché dovevo vederlo perché ne parlavamo tutti quanti l'ho guardato sì cioè non mi è piaciuto particolarmente la cinematografia fighissima la musica da paura lui super bravo la storia mi cascano per me che sono un grande amante di storie mi cascano sempre sulla storia diventano sempre o banali o facciamolo strano per farlo strano e non riesco mai a trovare quella roba naturale naturale che dici ok è una storia forte ci sono dei twist ci sono delle cose che però che sono credibili in qualche modo o anche incredibili ma che stanno dentro la roba e tight proprio compatti stretti dove non ci sono pezzi che tu dici ma come mai adesso questo qui e qua cosa sta succedendo io ho visto ultimamente ho visto in treatment che è una serie che l'hanno preso mi sa mi sa che inglese o americano che la recitazione in italiano è veramente figo proprio fatto bene quindi psicologi esatto non mi ricordo mai l'attore come si chiama Sergio non mi ricordo la V cazzo è bravissimo non ho anche intervistato lui è veramente bravo poi Claudio Bisio tutti i suoi film lui è veramente bravissimo e poi Boris ragazzi Boris è la serie di eccellenza italiana lui esatto allora Boris è proprio la cosa cioè finalmente non abbiamo fatto un film sulla mafia no? è super originale cioè figa facciamo 20 Boris cioè di cose che parlano di vita normale in Italia che non devono per forza essere a che fare con la mafia perché sembra che non possiamo fare niente se non è con la mafia se c'è un supereroe comunque il nemico della mafia va bene ce l'abbiamo lo sappiamo tutti quanti cioè è come se tutti i film giapponesi ci fosse sempre la yakuza cioè non è così cioè ci sono i tentacoli giganti che stuprono le donne esatto cioè figa però almeno loro hanno creato un genere con quelli cioè porca troia cioè non è che dobbiamo fare il godfather triste tutte le volte e quello mi dispiace un pochino cioè il dogman sembrava molto bello non ho ancora visto non sono riuscito a vederlo non sono riuscito a aver voglia di guardarlo perché non avevo voglia di guardare un'altra storia sulla malavita cioè poteva cioè una storia di un tipo che fa anche il serial killer che ha un negozio di cani poteva anche essere una storia figa no va bene che è una storia vera ho capito ma non dobbiamo sempre raccontare sempre solo storie vere cioè la cosa figa del cinema che possiamo raccontare storie inventate figa scrivete qualcosa solo che ovviamente ti ha arrabbiato molto hai detto figa tipo tre volte sì lo so il milanese imbrutito io mi incazzo perché abbiamo creato figa dei generi cioè Fellini ha fatto una roba Antonioni cioè non lì Antonioni non lì cioè i suoi film sono bellissimi cioè Zabrinski Point The Dreamers cioè figa abbiamo dato abbiamo creato abbiamo dato lezioni a tutto il mondo su come fare cinema e adesso noi non riusciamo più a fare una roba che non parla di generale eh ho capito scrivila lo scrivo però Olivo sono le 12 e 32 cosa facciamo andiamo in overtime andiamo in overtime secondo me su questa figa possiamo figa grande Luca grazie di essere venuto dai rifacciamo un'altra volta di quando dobbiamo andare avanti 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 non abbiamo neanche scalpito la superficie qua finiamolo con l'italiano marcio vai grande grazie mille ciao 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 ragazzi senza di voi noi non andiamo da nessuna parte ricordatevi di condividere le nostre puntate che vi sono piaciute di più con i vostri amici sui vostri social media e niente consigliateci ospiti commentate commentate condividete grazie grazie mille